Ciao a tutti, sto testando questo video di questi pad 2 per farvi vedere la qualità di questa webcam che ci hanno installato sopra con la luce del giorno comunque è abbastanza carino si riesce a vedere qualcosa andiamo in un posto dove ci sta un po' di scarsa luce ecco qua, stiamo entrando per vedere un po' la qualità con la luce normale questa è la qualità un iPad che costa tanti soldi comunque questa qualità non ci sta proprio fa un po' stifo, sinceramente, da parte mia chiudiamo la luce per vedere un po' la situazione addirittura con un telefonino si vede molto meglio guardate è assurdo tanti soldi vabbè cosa dire lascia voi a giudicare questa scelta di pad 2 ha detto che è un po' di questi padami un po' di questi padami ho bisogno di essere un po' di questa scelta di padrone ne sono di una scelta di padrone Grazie a tutti.